Io, gentilmente, innanzitutto buonasera a tutti voi e sono felicissimo di questa folta rappresentazione. Poi vi parlerò di alcuni brevetti dell'ingegner Luigi Giura, di questa ricchezza enorme che abbiamo sul territorio di Minturno. Abbiamo la fortuna di avere anche qui l'assessore alla cultura di Minturno, che senz'altro mi ascolterà in modo particolare sulle cose che andrò a dire. Però vorrei dare, prima del mio intervento, la parola all'ingegner Renato Guida, che è un mio vecchio amico, che viene da Roma, che mi ha seguito fin dal...